we bella a tutti ragazzi prima di andare a vedere il video voglio ricordarvi il mio codice creator xyuderone grazie mille per il vostro supporto attenzione ogni 14 giorni scade quindi non dimenticatevi di controllare se ce l'avete e ovviamente mandatemi una storia su instagram uno screen quello che volete io vi reposterò ma adesso video c'è uno qua li hanno tirato un big sono buoni allora sono buoni per un cattinere cosa fanno tirano i big ma c'è un botto di gente io non ho il pump arrivo ce n'è uno che proprio in fuga totale ma io andrei qua al centro della della rissa generale sì andiamo c'è uno fuori all'esterno morto ma c'è qualcun altra c'è da stile x no pizzi bravo stile x l'ho vecchia sinistra vengo lì e ti do una mano arrivo anch'io adesso poi c'è uno stile qui dietro si ho visto ma sta fai tanto ho boxato sto arrivando sto qua morto morto ma veramente quel tipo è un hit ragazzo uno dietro che sta scappando col veicolo forse è sceso ragazzi questi non sanno il loro nome ve lo giuro andiamo qua dentro mi entro da sopra però sono in 30 bravo bravo vai non puoi non puoi avere il monopolio diciamo per anni della vita dei videogiochi ogni tanto qualcuno viene a darti fastidio e ma non lo so il movimento 3 4 230 metri quindi a 230 metri ma stavo stavo correndo e saltando questo mi ha fatto un edge o da 240 metri c'ho la fiocina quindi posso andare avanti poi a prendere le cose sto cercando di vedere da dove ma non vedo ah qua 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 ah qua qua stanno pushando era sopra il monte un tizio anche a sinistra 35 mi hai stato anche a me è un po' strano eh è un po' rosco se ne andrà aiutarlo se ne andrà aiutarlo vado sono morto oh mio dio ah lì sotto il cono one hit cade cade nicio cioè questi ci avevano fatto bo attenzione lo posso non riesco ad entrare aprili bravo sta fugando come non so cosa senta le fughe questo non so ho messo sopra una cappelletta cosa fa è in panico questo c'è un altro c'è un altro sopra pizzo morto 85 è qua l'ultimo è qua l'ultimo qua da me c'è uno morto è andato è andato è andato mi manca uno eh si si è dietro di voi lo mi stiamo ne sta scappando 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 guanito voglio fare 38 bianco 30 white è andato è andato è andato stai andevolendo tutti c'è minca ho fatto 4 kill lol andiamo ma come 4 kill eh si ne ho trovati due di questi qua io eh buono no no è un team in c***o è questo mi butto sopra questo edificio ahia avete dei mini per me io sono senza cure oh uno di vita quello lì ragazzi quello lì a sinistra uno di vita vado a prendere xivir lo vado a prendere questo pizza l'ho preso l'ho preso l'ho preso è morto? il signor trick pony dove è il signor trick pony? ma l'hai ucciso? si si ha detto ah ok stavanti giù stavanti giù ma no è qua ok ok easy easy stiamo facendo cosa vuol fare la palombella io non capisco cosa stia facendo c'è gente ragazzi da oldare da oldare andiamo 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 venite venite ho preso un filo più di Aig questi non li dobbiamo far entrare? no questi non li freddo white morto morto 26 blu dai non può farcela da arrivare porco giuda se ce la fai invece 30 ma la sembra proprio non ti dava 33 white white tu vizio dovresti prendere il finish troppo ma com'è possibile? morto morti tutti morti tutti easy rientriamo? easy 22 bombe sono tipo ah no sono i dinosauri che seguono anche prima 22 ne abbiamo fatto 23 sono grosse 22 gente di là c'è gente in barca è morto sono morti in tre ma come sono morti in tre ma quel luto lo dobbiamo lasciare per forza erano tre più veloci no si sta divertendo Steelix a sparare ai dinosauri ah ok ho visto intenso verso i veloci raptor vogliamo andare col veicolo dove? eh sopra la montagna c'è gente stavano rampando poco fa vorrei visitare qualche posto allora la porto sul passo del falloppio come si dice? lei conosce parte che non ce l'ha parte che non ce l'ha gente qua sopra via giù 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 gente sopra giù giù gente gente sì ok andate 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 urca siamo tre contro due mi sa siamo tre v due tre contro due tre contro due oh sopra la montagna proprio belli piazzati mi arcavo ah lì sopra proprio sopra io gli faccio un giro da dietro ma cosa facciamo? vogliamo andargli a fare un saluto proprio frontale? assolutamente sì direi buonasera buonasera prendo io l'ultimo vento 28 questo gli possiamo fare una qualcosa? una porcata? sì vogliamo picconarlo? dai diamogli due botte diamogli due botte questo è morto eh come è morto? 20 20 20 entro entro 20 morto picconato e lol nooo 28 kill buono 28 kill adesso ho capito che lei sta giocando con la creme della creme però 5 sono buone musica 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 Grazie a tutti.